Buongiorno a tutti, sono Bruno Maggi, la società per cui lavoro è on-off service, nel ruolo di system integrator ovviamente, il mio ruolo in azienda è sostanzialmente tecnico e progettuale. Oggi mi trovo qua nell'ambito di questa riunione promossa dalla SIEC e trovo che sia una riunione decisamente interessante per molti aspetti, lodevole anche degli intenti, ma che lascia una serie di perplessità, forse perché siamo in Italia e in Italia certe situazioni purtroppo prendono sempre un corso diverso da quello che può essere l'intento iniziale. Nello specifico la possibilità di avere un inquadramento professionale, quindi una tutela da un punto di vista sia legale che progettuale e conseguentemente anche commerciale è assolutamente un obiettivo da perseguire. C'è stato anche l'intervento di un senatore in merito al quale si è fatto promotore per gli organismi di governo per portare avanti questo tipo di richieste. Il dubbio che mi viene così da una prima lettura e dai primi commenti che abbiamo potuto ascoltare in merito all'intervento di questo senatore è che forse già il senatore ha difficoltà a capire esattamente che cosa facciamo noi. Mi chiedo cosa riescano a capire, cosa possano capire i tecnici o i legislatori di governo che devono promuovere poi questo tipo di realtà. io credo che forse guardando all'estero, facendo riferimento a situazioni che sono già ben delineate negli altri paesi, possa essere sicuramente utile. L'augurio è che poi la realtà italiana possa trovare dei punti di contatto con quelli che nei paesi esteri sono già delle normali situazioni di rispetto nell'ambito delle categorie professionali e del lavoro che noi sviluppiamo. Mi auguro che questo mio appunto possa trovare spunto di riflessione in chi dovrebbe poi gestire queste situazioni.